ciao a tutti benvenuti ad una nuova collaborazione anche questa volta la collaborazione con gloria idda quindi mi raccomando andate tutti sul suo canale a vedere anche il suo video perché veramente secondo me è un tag molto interessante molto carino il tag non l'abbiamo inventato noi e non l'abbiamo preso da youtube è stato inventato da traduco it che salutiamo non non it nel senso di punto et ma bensì hit cioè i testi delle canzoni dunque scusate come vedrete dal titolo il tag è stato nominato chiamato come vogliamo dire nemici amici e prima di perdermi in ciance come dice gloria partiamo subito con le domande sto palesemente leggendo quindi scusate i movimenti tecnici domanda numero uno qual è stata la cosa più brutta che ti ha detto un amico o amica dunque pensandoci bene mi delusioni ne ho voti tanti e qualche occhio attento se neanche accorto senza che io lo dicessi ma la prima frase che mi viene in mente me la disse una ragazza che è stata mia amica per 16 anni e io ne ho 25 quindi fatevi i vostri conti al momento del mio cammin out che per chi non lo sapesse sarebbe presentarsi come gay mi disse io ti accetto però gesù ha creato l'uomo per stare con la donna ora preferisco non parlare di religione perché non voglio ledere la sensibilità di nessuno per me ognuno è libero di professare la cosa che lo fa star meglio o che la fa star meglio quello che non mi è piaciuto di questa frase che proveniva da una persona che è stata mia amica per 16 anni e alla quale ho semplicemente detto di essere gay nulla di più e nulla di meno domanda numero due qual è stato il momento in cui hai capito che quella amicizia non esisteva beh volendo l'ho già detto quando una persona con la quale si è cresciuto perché avevamo cinque anni quando ci siamo conosciuti quando una persona con cui si è cresciuto semplicemente per un particolare affettivo perché definirlo sessuale mi sembra troppo riduttivo per un particolare affettivo e quindi anche sessuale ti dice che ti accetta ti senti ti senti il malato che non sei perché io non mi sento affatto malato che 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 ne dicano gli omofobi che che ne dicano determinati tipi di integralisti e quant'altro io non mi sento affatto malato mi sento diverso per tanti altri motivi che non hanno a che vedere quale affettività e quale sessualità mi sento diverso per il mio modo di vedere le cose di vedere le persone di vedere i rapporti umani che non è detto che sia quello giusto anche perché insomma i rapporti umani li vivo in una maniera un po' così non è detto che sia quello giusto ecco comunque sto divagando passiamo alla terza domanda qual è il ricordo più bello nella tua amicizia ad esempio una serata una giornata un momento allora qui non riesco a capire si sta rifarendo sempre all'amicizia che è finita oppure ad un'altra nel dubbio perché non l'ho capito nel dubbio vi rispondo parlandovi di un'altra amicizia ancora in corso per fortuna con il mio migliore amico io credo che la la cosa migliore che ricordo finora è stato quando lui mi ha detto soffrendo di una malattia purtroppo molto debilitante che un misto fra la distrofia di tipo 1 la distrofia di tipo 2 mi ha detto devo venire a grossetto poi posso poi morire felice mi sto emozionando si vede e pazienza viva l'emozione qual è stata la cosa più brutta che hai sentito dire al tuo amico e non hai mai avuto il coraggio di di dire la tua oddio anche qui non capisco se si riferisce ad un'amicizia finita oppure no quando posso non aver avuto il coraggio di dire la mia vediamo un attimo fatemi pensare non aver avuto il coraggio di dire la mia non mi viene in mente perché anche quando questa ragazza mi ha detto io ti accetto come se fosse una cosa ad accettare già io in realtà e ricordo perfettamente di averle risposto quelle rime nel senso cioè non c'è niente ad accettare io so di essere normale di star bene quindi se non ti sta bene forse è meglio chiuderla anche quando purtroppo si è conclusa recentemente la mia ultima virgolettiamo molto amicizia anche lì penso di essermi tolti tutti tutti i sassolini scarpe possibili al punto tale che il mio carissimo amico in questione che non voglio nominare per questioni di privacy è stato lui infine a voler chiudere allora forse segno che tanto tanto amicizia non era allora domanda numero 5 qual è stato il più bel complimento che un amico o amica ti ha fatto io purtroppo non sono è triste da dire questa cosa ma sono poco abituato alle cose belle le desiderio tanto ma ci sono poco abituato il più bel complimento mio il complimento cose belle complimenti che mi hanno fatto ecco me ne viene uno che mi ha detto recentemente una persona questa posso salutarla ciao stefano un abbraccio fox come preferisci stefano fox è la stessa persona recentemente mi ha detto se troverai una persona che ti stima e ti rispetta come ti stimo e ti rispetto io allora potrei dire di avere degli amici domanda numero 6 qual è la cosa più importante in un'amicizia secondo te la cosa più importante oddio difficile scegliere io penso la presenza che non sta a significare necessariamente fisica perché comunque non scegliamo dove nascere molto spesso specialmente in questo momento economico difficile non possiamo nemmeno scegliere dove morire quindi quindi non so un nostro amico o amica potrebbe essere costretto da tante circostanze a partire oppure potrebbe essere semplicemente nato e cresciuto in una città diversa dalla nostra e non sarebbe colpa sua quindi io penso presenza intesa però a largo raggio a 360 gradi proprio della serie possiamo stare anche a 300 km ma io ci sono quindi presenza numero 7 se un amico ti chiedesse 50 euro glieli presteresti o penseresti che poi sarebbe imbarazzante chiedergli indietro oddio io in vita mia non ho prestato tantissime volte soldi però quando mi sono fidato a prestare soldi a qualcuno sinceramente parlando se proprio ho insistito per restituirmeli allora li ho presi perché ho visto che faceva piacere così ma se no se arrivo a fidarmi a tal punto prestare dei soldi di solito non le richiedo perché insomma mi sembra di non lo so la mio male se li ho prestati perché li ho prestati volentieri non a volte non mi vado di chiedere indietro perché comunque si tratta di un rapporto abbastanza intimo e stretto dunque 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 mi sono perso ah no eccolo qual è il complimento più bello che ti ha fatto un amico o amica? complimento più bello complimento più bello oddio ogni tanto si mi è arrivato ancora qualcosa di bello in questo senso beh mi piace sentirmi dire sentirmi non saprei sacrificare si sacrificare no diciamo che in generale la cosa che mi gratifica di più è essere in qualche modo utile all'altra persona anche senza fare grandi cose perché comunque la mia autostima è molto 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 in lavorazione quindi una qualunque cosa mi faccia sentire utile o perché no diciamo anche considerato a chi è che non fa piacere della considerazione sincera però parliamo non l'emosinata io odio la compassione e l'emosina la considerazione sincera voluta e reciproca fa sempre piacere non saprei classificare una frase ecco qual è la cosa più divertente che ti ha mai detto che avete mai fatto? oddio cosa divertente fatta con gli amici fatemi pensare fatemi pensare cose divertenti fatte con gli amici si vede che non mi sono divertito tanto in vita mia cose divertenti fatte con gli amici cose divertenti giuro ragazzi ci sono stato a pensare mi sa che devo ancora viverla questa cosa ed è una cosa triste però va bene qual è stato il momento in cui pensavi che lui o lei fosse in un modo hai cominciato ad avere dei dubbi dunque qui mi rifaccio invece a la persona che ho detto prima quella con la quale purtroppo ho chiuso in tempi abbastanza recenti diciamo che ecco quello che ha cominciato a darmi a pensare è stato quando questa persona ha cominciato a cambiare repentinamente e spesso l'idea sulle cose da fare insieme purtroppo preferiscono entrare nello specifico perché preferirei ecco che questa persona non si offendesse quindi vi prego se dovete farmi qualunque domanda o me la fate in privato oppure fatemela anche nei commenti non lo so però sappiate sappiate che io vi risponderò in privato diciamo che comunque sia la mia condizione fisica non mi permette di cambiare programmi in un tempo così repentino e questa cosa non è stata considerata quale domanda numero 12 qual è la cosa più dolce che hai fatto e o ti è stata fatta sempre in ambito di amicizia ah ecco allora forse è una domanda generica ammetto di non averle lette prima non me le sono studiate ho preferito una cosa spontanea e spero che vi piaccia così la cosa più dolce che mi è stata fatta in ambito di amicizia ecco forse volendo l'ho già detta quella che ho detto prima quando il mio migliore amico attuale mi ha detto che una volta di una volta che mi avrà incontrato potrà morire felice ora potrebbe partire qualche moralista ma come fai ad essere amico di una persona se nemmeno l'hai vista nemmeno la conosci bla 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 allora io e patrick abbiamo cominciato a accettare avevo 18 anni quindi 7 anni fa poi certo ci sono stati dei periodi in cui siamo stati lontani perché lui aveva dei problemi di salute io non lo sapevo da bambino 18 è un idiota ho pensato che non che si fosse allontanato e di conseguenza mi sono allontanato anch'io però per me è sempre una persona che mi ha visto crescere perché non è per non è per voler fare il vecchio però a 18 anni non sei la stessa persona che sarai a 25 così come a 25 anni non sei più la persona che era 18 se è in bene o in male questo è un altro paio di maniche e non è per voler fare il vissuto ma credetemi è così quindi una persona che mi ha visto crescere per quanto le nostre vite non ci abbiano dato la possibilità di incontrarci per me è un fratello il mio migliore amico lo toccatemi patrick va bene qual è la cosa che vi accomunava ci accomuna in realtà ci accomuna sempre anzi incrociamo le dire da quello che ci accomuna e sono due cose in realtà siamo entrambi disabili quindi conosciamo la discriminazione per quello che riguarda la disabilità e siamo entrambi gay quindi dubito fortemente di aver ancora trovato fino a questo momento una persona che mi appoggi e che mi capisca come mi appoggio e capisce patrick ciao fratellori bacio il frattempo è partito lo screensaver va bene il bello della diretta dunque in cosa invece eravate completamente diversi ecco la differenza tra me e patrick che comunque non ha mai costituito un problema è che io sono un animale sociale all'ennesima potenza mentre invece patrick al è il pregio di stare bene anche da solo è una cosa che io vorrei imparare non ci riesco non ci riesco non ci riesco non ci riesco insegniamo ti prego allora vi è mai capitato che un amico o amica vi fregasse nel mio caso il ragazzo? no nessuno mi ha mai fregato il ragazzo per fortuna anche perchè non ho avuto moltissime storie ancora vi è mai piaciuto il ragazzo o la ragazza va bene nel mio caso il ragazzo di uno dei vostri amici come avete gestito la cosa? allora si una volta non proprio così in realtà una volta mi è piaciuto un mio amico fidanzato come ho gestito la cosa e in realtà abbastanza bene perchè mi è piaciuto in un momento in cui io comunque non volevo fidanzarmi quindi era un interesse più fisico che altro quindi l'ho gestito abbastanza bene è andata abbastanza bene poteva andare molto peggio i vostri genitori domanda numero 16 i vostri genitori vi hanno mai detto che una determinata vostra amicizia vi stava cambiando o portando sulla brutta strada? ora qui apro e chiudo una piccola parentesi poi non entro nello specifico perchè non mi va di parlarne tanto vi dico soltanto che ai miei non andava bene nessuna amicizia e qui mi fermo ultima domanda numero 17 qual è la caratteristica indispensabile che cercate in un amico o amica è quella da evitare assolutamente allora per quanto riguarda la caratteristica indispensabile credo di averlo già detto prima se non arrossia la vicinanza al di là della distanza o non distanza fisica della serie che sia su facebook che sia su whatsapp che sia su skype che sia con i segnali di fumo la presenza quella invece da evitare assolutamente per quanto riguarda me quindi non una verità assoluta non bisogna prendere dalle mie labbra è quella di inserire la gelosia scusatemi ragazzi forse ho anche la faccia abbastanza scocciata è che ho parlato per più di 20 minuti salvo poi scoprire che a circa 20 minuti la macchinetta non sopportava più mi avevano detto che che faceva circa 27 minuti invece no non credo che arrivi a 20 comunque stavo dicendo che non sopporto la gelosia già in amore figuriamoci in amicizia quindi per quanto questa mia opinione potrebbe essere rivista contestata eccetera non ho intenzione di cambiarla perché l'ho vissuta nei miei brevi amori non fa per me non fa per me lo so che dicendo così potrei sembrare una persona della coscienza sporca ma non correrò il rischio non mi importa e nulla adesso cercherò di essere davvero breve anche perché per voi siamo a più di 20 minuti così non le potrete più le uniche cose rimaste che volevo dirvi sono se vi va intanto di iscrivervi al canale se non siete iscritti poi passate a vedere il video di gloria che vi linkerò appena possibile se vi va sono un disastro aggiungetemi se vi va su 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 lo so che non si dice così però non sono capace di dire la versione corretta vi metterò vi metterò tutti i link qui sotto e e ah e se vi va iscrivetevi anche alla mia pagina facebook youtube emergenti anche se sto dicendo il nome mi metterò il link anche di quella così magari insomma oltre allo sponsor video che comunque continuerò a fare e possiamo fare anche un altro tipo di sponsor sulla sulla pagina si il vento ha aperto la porta ma non mi va di andare a richiuderla dicevo possiamo anche fare un altro tipo di sponsor sulla pagina chiaramente essendo però iscritti al mio canale mi raccomando ora smetto di cianciare altrimenti non arriverete mai alla fine iscrivetevi commentate spolliciate pagina su quello che volete vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao